Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dopo aver condiviso l'esperienza al grande fratello VIP5, che li ha visti avvicinarsi e piacersi sempre di più, ad oggi formano coppia fissa ed è davvero raro vederli separati. In una diretta Instagram avviata con alcune fanpage, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno risposto ad alcune domande dei più curiosi, e in merito ad una domanda su chi fosse tra i due il più romantico della coppia, Andrea Zenga ha replicato Lei lo è di più, ma di poco. Io non sono molto romantico. Rosalinda Cannavò ha poi continuato. Andrea sta miglioranado. Io invece mi sento una quindicenne. Anche meno mi dico a volte, anche meno. Andrea Zenga non ha mai nascosto il suo sogno di lavorare, un giorno, come conduttore di un programma televisivo sul calcio. Il giovane, infatti, e un gran tifoso dell'Inter, e un po' anche grazie al suo papa Walter Zenga, storico portiere, ha sin da sempre coltivato una grande passione per il calcio.